Salve a tutti sono FFox e se vi state chiedendo cosa stia facendo sto cercando di salvare per evitare incurate Yeah aggiornamento memory card, ma però si sta aggiornando via internet no? Chiaro tutto qui non c'è neanche la memory card perchè stiamo giocando sulla playstation 3 quindi è tutto sulla hard disk Che merda è meglio la memory card francamente, però vabbè questo è il futuro, la merda è il futuro esatto Un giorno siamo tutti merda, fin l'altro sicuro, al 100% sicuro Spiacente, questa volta dovrei essere arrabbiato In collera, col fumo che mi esce dalle orecchie Ancora una volta l'hai fatta in barba ai miei migliori scagnozzi Dovrei essere fuori di me, non è vero? Infatti siamo furiosi Ma sembra che ti sia sfuggito un piccolo dettaglio, piccolo fattorino arancione Adesso che hai raccolto tutti i cristalli, tutto quello che dobbiamo fare è sottratteli C'è ancora un pezzo di filmato eh, anzi meno sto zitto non ti è filmato Ti sei fotti Corazzo bandico, per l'ultima volta, dammi i cristalli Che cazzo, dammi i cristalli, gna 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 Ok non mi ricordo se questo boss è facile o difficile ma La musica è fantastica, mi dispiace ma la musica è fantastica Anzi non è che mi dispiace, sono contento Praticamente Aku Aku e Uka Uka invece che Combattere la setta di loro Passano tutto il tempo a romper i coglioni a me Se non si mette Aku Aku dovrebbe aiutarmi ma in realtà rompe il cazzo Questa qui è Il suo scopo di Aku Aku è rompere i coglioni in questo boss finale Perché già Uka Uka nella tua di palle Adesso si mette anche Aku Aku Cazzo Non voglio morire Che cazzo ho rischiato la vita Direi che posso colpire Cortex e poi buttarlo dentro al cesso Al cesso Lì dentro Lì dentro al cesso E Uka Uka lo recupererà Né dopo con Aku Aku esploderà E boom Oh no Mi ricordavo che esplodeva invece fan tipo Tipo Tasmania che girano Ma che cazzo c'entra Ecco adesso la tasmania Che cazzo c'entra Dai Cortex se è una sega Non mi beccherai mai Da dentro al cesso Vai dentro al cesso Vai dentro al cesso Ok Lontani dal centro Esatto perché questi due devono girare Si stanno accoppiando Dai passandati a sinistra Bene Ok a me sono un coglione di quelli gravi L'ho getto mille volte ma lo ripeto Lo ribadisco proprio Cortex Cortex Picciati Che sei in diretta mondiale E su YouTube No No Sei in diretta mondiale Vai a cagare No 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 Le mine No Sono Le fottute Mine Del cazzo Ok Evitiamo questi due Che si accoppiano Vabbè con che forza si accoppiano Proprio Kamasutra Da che parte vanno? Ma che vanno proprio a otto No Cazzo no no Questa qua è una stronzata Mi dispiace Dopo perché si è gozato Ok ho capito che questa parte Durava molto Io ho cominciato a batterlo con niente Cortex Ma sono invecchiato Una volta lo battevo proprio come se fosse una cazzata Anche se lo è Effettivamente è una cazzata Ma io sono proprio pirla Ok Morto Cortex va nel cesso So che ti piace andare nel cesso perché sei una merda Però Stavolta ti accompagno io Dai Mi sembra che il computer da dietro nella versione giapponese non ci sia per qualche motivo strano Ma forse ricordo male io Cortex è una merda Sei una merda Mi becchi Cioè ma in teoria quella pistola non poteva sparare più in fretta Nel uno sparava Cioè Pum 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 adesso transfermine contro Uh Non male Proprio non male Ok Cortex Finisci nel cesso perché Uh Ma proprio lo mancavo il cesso Ok Se riesco a fare questa parte qua Vuol dire che riusciamo a finire le let's play Felici e contenti Sennò Cazzo Vabbè Quindi in teoria è più facile L'arte volte Perché Semplicemente fanno così Si accoppiano E esplodono Uh, ora i cazzi li chiamano reattori No, aspetta E' i reattori che li chiamano cazzi No, è i cazzi che li chiamano reattori, detto bene Guardate, mettetevi qua, così se ti vuoi dal cazzo Grazie Uh Cosa ci mi è andata facile questa Cosa? No, è una stronzata, di solito si fermano Sì, abbiamo battuto il boss Abbiamo battuto il boss Sì, sì Ieri abbiamo finito il display E quindi Ok, non c'è un cazzo questo potere perché abbiamo finito il display Non lo vedrete mai nella vita E quindi al prossimo Il display, ditemi nei commenti Cosa vorreste che facessi E vi lascio dal finale, ciao Sconfitto di nuovo Non è giusto Forse dovrei ritirarmi su una bella spiaggia Con un cocktail enorme E una donna con due grosse E borse del ghiaccio Da mettermi in testa Non è ancora finita Bandicoat Ci sono ancora le gemme Dopo le risate maligne di Uka Uka Le risate maligne di Uka Uka Mi piace la mia voce alla Uka Uka Oh Bandicoat Ti faccio il cuore Ok, basta Anche perché Ma non di fare così Mi è mal di gola Cazzo E niente Questo qui è la Clash Direi che questi qui sono i titoli di coda I doppiatori italiani non ci sono Ogni tanto ci sono Ogni tanto a nostra volta non ci sono Quindi li dico io Giusto per completezza A Quaco è Ciro Carraro Uka Uka è Angelo Cola Cortex è Angelo Cola Dingo Dill e Ntropi sono Coso di Anderà Piovane E NG non mi sa che Ciro Carraro Però non sono sicuro Perché c'era quella voce di Ticciata strana Che non lo so Altri personaggi Coco non parla Però se fosse stata Abile di parlare Sarebbe stata probabilmente La stessa del 2 Cioè Non mi ricordo Chi è Chi fosse Invece Doppiatori americani Brandon o Brienne Perché solo lui C'è Il doppio a tutti quanti Non vincendo i campi Per San Gio da doppiare Adesso Crash Bandicoot Anche in italiano Perché sono stati Doppiare le frasi Ovviamente Qui ci sono tutti Sony Computer Blablabla Producers Surumi Blablabla Un sacco di cose Interessanti Insomma LED Analyst Sì Insomma Testers Tutti i giapponesi Testers Come mai? Ringraziamenti A tutti i giapponesi Monitor Members Che cazzo è? Musica di Quei due lì In due hanno fatto sta musica Non in tante Però sono stati bravi Le musiche sono bellissime Di Crash Ecco il Bp3 in inglese Ah no Non sono tutti i Brandon o Brienne Solamente Conosono E Con gli altri due da Copyright Ditemi nei commenti Chi volete che sia Il prossimo Let's play Che tanto io Probabilmente lo deciderò da solo Perché domani Avrà voglia di fare un let's play Io deciderò a cazzo Quindi Me lo consigliate Ah vuoto Ma chi se ne fotte Guarda che bello Crash che corre Poi dopo Più tardi Alla fine del gioco Si potrebbe sbloccare In teoria Forse Una cosa qui Qui in mezzo proprio Si sblocca Così c'è un'ultima stanza di balzo Che vi permetterà Di fare altri livelli E poi andare contro il boss finale Che è sempre lo stesso Stessa difficoltà Però con un finale diverso Però io c'è un po' di mal di testa Ecco è Così Vi viene un po' di mal di testa Dai Dita la verità Un pochino Va bene Dopo che ha ucciso Tutti quelli che soffrono di epilessia Qui Attorno a questo magico Cerchio Un attimo Mi fanno ancora un po' No Perché riesco a stare Nel punto giusto Per fare di epilessia Coco Coco Ti metto il naso lì Così Vabbè basta cazzate Diciamo che è finito qui il display Saluto tutti quelli che mi hanno seguito Giltommi lo saluto Che mi commenta praticamente tutti i video Lo apprezzo molto E ci vediamo al prossimo display Ciao Ciao